Buonasera sono Laura Antichi, vediamo oggi come muoversi in OpenSim. Sono a Nidra e agendo sulle frecce della tastiera che poi vi mostrerò, vedete che posso andare avanti, posso andare indietro, avanti, posso andare lateralmente girando la visualizzazione, la visuale, sempre agendo con queste frecce della tastiera che vi mostro ora. Ecco, vedete la freccia che va avanti, la freccia che va dietro, la freccia che si sposta per lo spostamento a sinistra e la freccia per lo spostamento a destra. Posso utilizzare una comoda finestrella accedendovi dal menu Io, Controlli, Movimento. Questa finestrella mi permette quindi il movimento, come vedete in questo caso avanti perché sono indietro. Lateralmente mi permette di avere la visuale dell'ambiente quindi a destra e a sinistra. Mi posso spostare poi a destra e a sinistra sempre agendo con le frecce. Questo per quanto riguarda il camminare. Per quanto riguarda il correre ho la possibilità della modalità Corri sempre sempre agendo sulla finestrella Corri e vedete che posso correre quindi in avanti, indietro, lateralmente, lateralmente, poi posso cambiare la visuale attorno a me attraverso queste frecce stotte. Ho anche la fantastica possibilità di volare sempre dalla finestrella, vado in su, vado un po' in giù, di nuovo in su, volo a destra, sì alla mia destra, in questo caso alla mia sinistra e poi giro, posso girare la visuale dell'ambiente a sinistra e a destra. Quando ho finito di volare mi sono quindi recata dove volevo andare, posso fermare il volo, ferma, volo. Posso utilizzare la modalità volo utilizzando la tastiera con il maiuscolo e page in su. Ecco, si è mosse finalmente la tastiera con il maiuscolo e la tastiera con il maiuscolo. poi posso ritornare col page in giù, giù. Adesso vi mostro i comandi da tastiera. Questi sono i comandi sulla tastiera che vi permettono quindi di volare in alto e di mettere fino al volo, tenendo premuto il tasto maiuscolo, quindi page in su e in giù. Posso muovere la visuale attorno a me utilizzando i tasti CTRL ALT che mi permettono, vedete, di girare attorno all'ambiente e nell'ambiente. premendo il solo tasto ALT ho la possibilità di zoomare sempre agendo con il tasto sinistro del mouse o con anche la rotella avanti e indietro. posso ottenere gli stessi risultati utilizzando la comoda quindi casella che trovo in io, il menu io, controlli camera. con i controlli camera ho la possibilità di vedermi innanzitutto frontalmente oppure lateralmente oppure da dietro. è comodo quando si va in open sim la visualizzazione da dietro. posso inoltre con il più vedete avvicinarmi con il meno allontanarmi zoomare. poi posso con la muovere la camera su giù a sinistra e a destra con le frecce. come potete vedere per avere ulteriori visuali dall'alto oppure dal basso sempre con il tasto ESC ESC ritorno alla situazione originaria posso posso avere la possibilità di utilizzare altre visualizzazioni come vedete usando l'altra parte della finestrella potrei potrei anche usare il mouse look view per avere una visualizzazione senza di me dell'ambiente queste sono operazioni di visualizzazione abbastanza interessanti soprattutto se si vogliono fare delle fotografie abbiamo quindi visto stasera come muoversi come camminare come correre come volare in open sim e come utilizzare la camera per la visualizzazione dell'ambiente che ci circonda per la visualizzazione dell'avatar frontalmente da dietro e lateralmente per vista buonasera buonasera ... ... , ... ... ...